Paola Testorecoggi, Direttore Generale per la Salute dei Consumatori della Commissione Europea. Qual è la situazione oggi degli OGM? In Europa noi abbiamo una legislazione severissima. Siamo nel mondo la regione che ha la valutazione scientifica e le regole più severe in materia di autorizzazione di OGM. Gli OGM vengono autorizzati soltanto uno per uno sulla base di un dossier scientifico molto dettagliato che studia gli effetti a breve termine, a medio termine, a lungo termine sull'ambiente, sull'uomo e soltanto quando l'analisi scientifica ci dice che non c'è alcun rischio per la salute e per l'ambiente gli OGM vengono autorizzati. Oggi abbiamo in Europa circa 60 OGM che sono autorizzati. Sono soprattutto mais, soia, colza e questi OGM che sono autorizzati vengono in realtà utilizzati soltanto per i mangimi animali. OGM potrebbero essere usati anche nel cibo ma non sono utilizzati perché la nostra legge prevede che ogni volta che vengono impiegati nei mangimi o nel cibo devono venire etichettati. E quindi l'industria alimentare, siccome sa che in Europa il consumatore non vuole mangiare OGM, chiaramente l'industria alimentare non utilizza OGM negli ingredienti per i cibi. Ma allora oggi in Europa è legale coltivare gli OGM? C'è soltanto un OGM, un mais, che è stato autorizzato negli anni 90 e che è un mais ancora della prima generazione ed è l'unico OGM che si può coltivare in Europa. Pochi paesi lo coltivano, soprattutto la Spagna ha una certa superficie coltivata OGM, ma chiaramente la maggior parte dei paesi europei non vogliono coltivare OGM. Ed è per questo che la Commissione ha fatto qualche anno fa una proposta per modificare la legge e per dare la scelta agli stati qualora vogliono coltivare o non coltivare gli OGM. Mentre la legge attuale dice che se la Commissione europea autorizza un OGM per la coltivazione, questo OGM deve poter venire coltivato in tutta Europa. E i paesi, per opporsi, devono addurre delle ragioni di salute o di sicurezza. Invece noi riteniamo, la Commissione europea ritiene oggi, che la scelta, se coltivare un OGM nel proprio territorio, deve essere fatta liberamente dagli stati senza doversi nascondere dietro a delle ragioni di sicurezza. Quindi questo mais che è già stato autorizzato può essere oggi coltivato anche in Italia? Potrebbe essere coltivato in Italia, certo. Questo mais che fu autorizzato nel 1996 è autorizzato per la coltivazione in tutta Europa. Però l'Italia, come altri paesi, hanno adottato delle misure nazionali basandosi su un problema del rischio, rischio per la salute o rischio per l'ambiente, che non esiste, perché in realtà questo è un mais che è stato autorizzato proprio sulla base, come ho detto, di una valutazione scientifica. Quindi è proprio per questo che noi abbiamo proposto una nuova legge, che non è ancora stata adottata, che è bloccata e che è stata discussa qualche settimana fa al Consiglio, perché noi vogliamo dare agli stati membri la libertà di scegliere se coltivare o meno, anche quando c'è un'autorizzazione comunitaria. Quindi vorrebbe dire che noi il sistema dell'autorizzazione rimane unico a livello europeo, ma poi lo Stato decide se coltivare o meno. Questa è una scelta di sussidiarietà, perché riteniamo che il territorio appartiene allo Stato ed è lo Stato che deve scegliere se coltivare o meno. E a che punto è questa proposta di legge? Questa proposta di legge è stata bloccata, è stata bloccata ormai da due anni, perché alcuni paesi non volevano poter esercitare questa libertà o non erano d'accordo. Adesso invece crediamo di avere una maggioranza degli Stati che la sostengono e quindi pensiamo che possa essere adottata entro l'estate. L'Italia è d'accordo con questa legge, ha sostenuto la proposta sin dall'inizio, perché noi riteniamo che è veramente una proposta che ridà una certa libertà allo Stato di scelta in materia di coltivazione di OGM. Com'è possibile, secondo lei, che anche paesi storicamente contro gli OGM come la Francia in questi anni hanno ostacolato questa proposta di legge europea? Difficile capirlo. Noi crediamo perché molti Stati ritengono che è ancora più facile per loro nascondersi dietro una scelta europea. Quindi lasciare la decisione dell'autorizzazione a livello europeo e poi essere liberi di prendere delle decisioni anche giustificate su dei motivi sbagliati, come quelli del rischio. Perché, ripeto, questa nostra proposta è una proposta che andava veramente nel senso della libertà, cioè libertà dello Stato di scegliere se coltivare o meno OGM. E per quanto riguarda il mais della Pioneer 1507, qual è la situazione? Il mais Pioneer è una domanda di autorizzazione che ormai è all'esame da quasi dieci anni. È stata valutata successivamente almeno sei volte dalla nostra autorità scientifica e tutte le volte l'autorità scientifica ha confermato che non c'era alcun rischio per la salute e per l'ambiente. La Commissione europea non lo ha autorizzato, ha ritardato anche perché ha continuato a porre delle domande per essere sicuro veramente che non ci fosse rischio, perché questo mais era il secondo mais ad essere autorizzato dopo il primo mais degli anni 90. Quindi era una novità. E ultimamente in ottobre la Corte di giustizia europea ha condannato la Commissione europea dandoci un'ingiunzione ad autorizzare perché secondo la Corte abbiamo ritardato troppo l'autorizzazione. Noi abbiamo in buona fede ritardato l'autorizzazione perché abbiamo continuato a chiedere o a investigare, a fare domande, a chiedere ulteriori analisi. Ma a un certo punto l'autorità alimentare, l'Agenzia di Parma, per sei volte ha confermato che non c'è rischio e quindi la Commissione europea adesso intende rilanciare questa autorizzazione. Quindi il prossimo appuntamento con gli OGM in Europa quando è? Il prossimo appuntamento è speriamo che il Consiglio dell'Ambiente, già prima dell'estate, adotti questa proposta sulla coltivazione che dà la libertà agli stati di scegliere e una volta che questo è adottato penso che potremo procedere all'autorizzazione degli OGM come quello di questo mais che sono in attesa da parecchi anni. Grazie. 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 Grazie.